Sarebbe la casa dei sogni, ma se la ristrutturazione andasse a rilento, come faccio col mutuo? Banco Fiorentino propone mutui a stato avanzamento lavori, erogati in più tranche, man mano che la ristrutturazione procede. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Vivere Viaggiare Volare Non aspettare 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa Toscana Aeroporti Le vere sfide Sono quelle di ogni giorno Vivile con Sustainium Plus La sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi Sostiene la tua voglia di energia Sustainium Plus Dai energia alla tua energia È Menarini Alla Copp la tua spesa vale di più Con giorni più buoni per una spesa di almeno 15 euro Hai 5 euro di buono che prendi e usi su tutti i prodotti Copp la settimana dopo La Copp sei tu Io sono una Unica Io sono le mie scelte Anche quelle che dicono Cambia Io sono Estra E scelta pura è quello che voglio Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio E gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente Io sono una Ma il cambiamento è per tutti Insieme Partiamo dall'energia Naturalmente Scopri scelta pura luce gas su Estra.it Lo sport ci insegna a realizzare i nostri sogni A sfidare i nostri limiti e a non arrenderci Mai La gamba Suzuki 100% Hybrid e 100% 4x4 Ti consente di vivere appieno le tue passioni E affrontare qualsiasi sfida